Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Monospor07 E oggi si parla un po' di Formula 1 Ragazzi, si lo so, molti di noi non vedono l'ora che finisca sta cazzo di sosta Però, per chi come me poi va a scuola, poi ci riprende Si dico, ah non cazzo, andiamo lenti perché poi prima si riprende Formula 1 prima si riprende pure a scuola Quindi siamo un po' tutti in una via di mezzo ragazzi Allora, 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 andrò a parlare un po' di tutte le lotte Perché ragazzi ci sono tante lotte C'è la lotta per il primo posto nel campionato piloti tra Verstappen ed Hamilton C'è la lotta tra Mercedes e Mercedes e Mercedes e Mercedes e Mercedes C'è il Formula Mercato C'è la lotta per la terza posizione tra McLaren e Ferrari C'è la lotta per la terza posizione nel campionato piloti Con addirittura in questo momento Norris davanti Perez e Bottas Quindi veramente, secondo me viene troppo sottovalutato il lavoro di Norris Che è davanti a una Mercedes e una Red Bull Quindi qualcosa di straordinario E insomma, quindi questo è Della lotta anche per il quinto posto Forse un po' trascurata per il mondiale costruttori Tra Alfa Tauri, Aston Martin e Alpine E un po' di tutto quello che circonda l'ambiente della Formula 1 Lo dirò magari in un video breve Allora, io penso che Se ora accendo il computer e vado a vedere Perché se no mi scordo E vado a vedere in qualche modo i risultati Della prima parte di stagione Noteremo sicuramente che Verstappen ha molti meno punti Di quelle che avrebbe potuto concretizzare E di quei 50 punti in più Che oggi potrebbe avere Verstappen Sono praticamente tutte 50 Credo, per colpe non sue Almeno 30 di questi 50 ragazzi Perché dico questo? Perché Verstappen Se andiamo a vedere quei 50 punti Che potrebbe avere in più Li andiamo a suddividere tra Azerbaijan Perché secondo me lì Verstappen non va a vincere E quindi fare Se non erro 5 vittorie di fila Cioè, se contiamo Azerbaijan Più quelle che ha vinto dopo Quindi Verstappen può avere 5 vittorie Poteva avere lì In quel periodo lì 5 vittorie di fila Se andiamo a vedere Cioè, quel che è successo in Gran Bretagna Fanno un incidente Che poi Verstappen Non ha lasciato lo spazio Sono cose soggettive ragazzi Ma la cosa che è oggettiva E che tra Verstappen ed Hamilton In quell'incidente Aveva più colpe Hamilton Hamilton era quella Che aveva più colpe Hamilton ha finito la gara Verstappen no Peraltro Hamilton ha finito la gara Vincendola Perché non aveva Praticamente rivali Perché Perez non aveva il passo Perché Bottas ovviamente Non può permettersi Di andare più forte Di Hamilton E perché la Ferrari Non ne aveva per vincere Una gara del genere Nonostante la Mercedes di Hamilton Forse Oserei dire Che non era neanche Al 100% Andiamo un attimo Sulla classifica ragazzi Molto bene Abbiamo la Ho la classifica di fronte Se andiamo a vedere Le occasioni non Sfruttate Da Max Verstappen Vado a notare Che in Gran Bretagna Dicevo la colpa Non è sua Eppure Hamilton ha finito la gara E lui no Quindi già lì Sono un 20 punti minimo 18 punti minimo Scusate Perché? Perché se Verstappen Mettiamo che non ci fosse stato Un incidente Quella gara Secondo me Verstappen L'avrebbe vinta Ma ammetti che non avrebbe vinta Avrebbe fatto sicuramente Secondo Dietro Hamilton Quindi Hamilton Primo Verstappen Secondo Verstappen Perdeva 7 punti Invece di 25 E sono già 18 punti in meno Se andiamo a vedere In Ungheria Verstappen Non aveva il passo Di Hamilton Però comunque È stato buttato fuori Da Bottas Secondo me Quella gara Verstappen L'avrebbe terminata Lo stesso Davanti ad Hamilton Perché Hamilton Ha fatto La cazzata Cioè Non lui La scuderia Ha fatto la cagata Di non chiamarla In box Per metterle Come da asciutto Quindi si è trovato Ultimo Rimontando da lì Fino alla seconda posizione Anche se in realtà Era terza Ma poi Verstappen Squalificato Quindi anche qui Verstappen Ha perso 16 punti In questa gara Ma Diciamo Che poteva star Davanti a Hamilton Quindi è come se Ne avesse persi Ne doveva guadagnare 3 Mettiamo così Oppure ne perdeva 3 Mettiamo che Hamilton Mettiamo che Hamilton Era davanti a Verstappen Perdeva 3 punti Invece ne ha persi 16 La differenza è di 13 punti Ragazzi 13 punti Che sommati Ai 18 di prima Sono già 31 punti 31 ragazzi Lo so Io a me non piace Ragionare con il senno Di poi Ma le coincidenze Sono sempre troppo A favore di Hamilton Che tu dici Ma secondo me Hamilton ha avuto un patto Col diavolo Perché un conto è che La Mercedes ruba Che ha una macchina Hyper Che dice alla FIA Date penalità Verstappen Ma non è possibile Che ogni volta Che succede un episodio Hamilton abbia culo Perché non solo In Gran Bretagna Hamilton aveva la macchina danneggiata Ha avuto il tempo Di ripararla Grazie In modo artigianale Peraltro Si dice Per Per dello scotch Incredibile L'ha avuto il tempo Di ripararla Grazie alla sosta Che c'è stata Lì Come si chiama La bandiera rossa In Emilia Romagna Hamilton era fuori Ragazzi Era diciottesimo Quello che era Ha rimontato Grazie a quella Santa safety car Che è entrata Nello stesso giro In cui Hamilton Si è andato Ai box Quindi Hamilton Non ha dovuto rimontare Dalla ventesima posizione Dove potrebbe Dove sarebbe potuto andare Con la sosta ai box Ma ha dovuto rimontare Dalla decima Se non sbaglio Comunque dall'ottava Una cosa simile Quindi Sono altri Non so Hamilton avrebbe finito Quella gara Forse non secondo Sicuramente non secondo Ma credo Dietro le due McLaren E le due Ferrari Sicuramente Quindi Penso che Hamilton quella gara Sesto la terminava Credo che Sesto Settimo La terminava E sono altri dieci punti in meno Sono venuti a quelli di prima Sono 41 punti ragazzi E non sto contando Il fatto che Hamilton Per tutta la gara in Bahrain Sono tre passati Track limits Mentre Verstappen Sono tre passati Proprio quando L'ha dovuto superare Proprio quando C'è stato il doppiato Ma lì mettiamo Che è stata bravura Di Hamilton Difendersi Grazie al doppiato Quindi non sto contando Neanche lì Anche se ballano 14 punti Perché quella gara Verstappen Poteva veramente Veramente vincerla E quindi Insomma ragazzi Io vedo che Verstappen Ha avuto Per tutto L'arco Della stagione Una sfiga Della madonna Perché le uniche gare Che non ha vinto Poteva vincerle Cioè secondo me Azerbaijan Gran Bretagna E Ungheria Erano praticamente Alla portata Di Verstappen Secondo me E comunque Magari non le vinceva Ma comunque Si ritrovava oggi Con 40 punti in più Nonostante Tutti queste sfighe Dove Verstappen Poteva avere 40 punti in più Rispetto a quello che ha E dietro Hamilton Solamente di 8 punti E non di 30 Ed è anche Il primo anno Che vedo una Mercedes Veramente in difficoltà Perché la Mercedes Singolarmente Ha fatto più errori Della Red Bull La Mercedes in Ungheria Ha fatto l'errore Di non richiamare Hamilton in box La Mercedes in Austria Non ha messo Comunque secondo me Una buona macchina Al pari di Hamilton Perché per alcuni tratti Nel primo Gran Premio D'Austria Ci sono stati tratti Dove la Ferrari Era più veloce di Hamilton E nel secondo Gran Premio Di Austria Addirittura Si è fatto battere in pista Da quella Della McLaren di Norris Quindi insomma Gran lavoro di Norris Ma anche un po' In Mercedes Non sono visti bene Comunque in Azerbaijan Hamilton ha fatto Quell'errore Andando lungo E la Mercedes Forse non aveva messo Una buona macchina A Bottas Non lo so E quindi ragazzi La Mercedes Ha fatto Un po' troppi Secondo me Errori Di strategia Che alla Mercedes Spesso non capitano Come il fatto Che a Bottas Non gli hanno cambiato Le gomme Quindi la Mercedes Nonostante Tra la Mercedes A Red Bull La Mercedes Quella che ha fatto Più errori Si trova comunque Davanti Secondo me E gran parte Ad Alpine Aston Martin E da più punti Perché non ha Non ha praticamente Mai battuto Norris Però comunque Si è tenuto Dietro Sainz In diverse occasioni Non permettendo Quindi Allo spagnolo Di superarlo Si è tenuto Quindi dietro Sainz In diverse occasioni Quando c'è stato Il nome clare Nel superiore Lui ha sempre fatto Il suo Stando Semplicemente Tra Norris E ha battuto Comunque Norris In Spagna Quindi il suo Più o meno Indispensabile Lo ha fatto Norris Ha veramente esagerato Ha fatto tre podi Certo In Emilia Romagna E a Monaco Gli ha fatti a culo Cioè Non a culo Nel senso che Per salire sul podio Ci sono stati eliminati Gli avversari Perché a Monaco Era fuori dai giochi Perez Ed Hamilton Che hanno fatto Una brutta qualifica Leclerc E Bottas Si sono ritirati in gara Quindi insomma Molto fortunato In quel caso Norris In Emilia Romagna Senza la safety car Avrebbe fatto Sesto o settimo In Austria Un podio più meritato Non ha fatto Però comunque Complessivamente Norris Mai fuori dalla top 5 Cioè ragazzi Voi mettete Le due Mercedes Le due Red Bull E quindi McLaren e Ferrari Dovrebbero fare sempre quinto E Norris È stato sempre In top 5 Tranne in Spagna Che è stata l'unica Sua gara storta Norris Andando a vedere Le posizioni Quarto Terzo Quinto Terzo Quinto 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 Terzo Quarto Ha fatto veramente Una stagione Della Madonna Fino a questo momento Varie volte Ha addirittura Oltrepassato La top 5 Per ben 5 volte Appunto Scusate la ripetizione Quindi ha fatto Una stagione Della Madonna La differenza Da McLaren e Ferrari Avrebbe 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 minimo Terzo Leclerc Leclerc E quindi Secondo me Potrebbe Alla fine Vincere Tra McLaren e Ferrari Sono sicuro Che vincere la Ferrari Doveva essere Veramente perspicati Perché anche qui Abbiamo avuto più sfortune Siamo anche quelli Che ha fatto più errori Perché ragazzi La Ferrari a Monaco Ha fatto l'errore In Francia Ha sbagliato La strategia In Francia Abbiamo fatto Una macchina Non degna Di essere chiamata Macchina In Austria Comunque Siamo stati rallentati Da Perez Dalle qualifiche Eccetera Comunque Dagli avvenimenti In Ungheria Ci hanno fatto Fuori Leclerc Quindi insomma Siamo stati Più sportunati Ma comunque Anche Quelli che hanno Fatto più errori La McLaren È stata più solida In questo senso Ragazzi Non ho mai visto Che ricordi Un errore Da strategia Da parte Dalla McLaren Anzi 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 Per quanto riguarda Il quinto posto Io credo Che la Ston Martin L'anno scorso Non avrebbe visto In faccia Nell'Alfa Tauri E nell'Alpine Quindi secondo me Nella seconda parte Di stagione La Ston Martin Uscirà Sarà più forte Dalla Alfa Tauri E Alpine Però ha 20 punti Da recuperare Che non sono pochi Rispetto ad Alfa Tauri E Alpine Anche più di 20 punti Forse Se andiamo a vedere Dalla Alpine Ha 30 punti Da recuperare E dall'Alfa Tauri 20 punti Secondo me Sull'Alfa Tauri Le recupera Sull'Alpine No Quindi secondo me Potrebbe tranquillamente Essere quinta Però bisogna vedere Come prendono La squalifica Di Vettel Se la squalifica Viene confermata Dubito davvero Fortemente Che la Ston Martin Arriverà quinta Ma più che altro Secondo me Andrebbe ad arrivare Sesta L'Alfa Tauri Secondo me La supera L'Alfa Tauri Che non ha sfruttato Una prima parte Di stagione Dove era Veramente Veramente Poteva portare Veramente Molti più punti Invece Tsunoda Ha cazzeggiato Un po' qui e lì Non ha portato I punti sperati Ha portato Veramente pochissimi Punti Tsunoda E appunto La differenza Tra l'Alfa Tauri A Ston Martin E Alpine È che l'Alpine Forse è quella Prestazionalmente Meno forte Ma è quella Con i piloti migliori Perché l'Alpine Ha due piloti Mentre l'Aston Martin Se andiamo a vedere Il secondo posto di Vettel Vettel È il triplo dei punti Di Stroll E in Alfa Tauri La stessa cosa Gasly È il triplo dei punti Di Tsunoda Mentre Alonso E Ocon In classifica Non si separano Di un niente Ocon Semplicemente Un punto in più Di Alonso E comunque Anche per una gara Abbastanza fortunata Perché se no Alonso sarebbe Ancora più avanti Però comunque Sono due piloti Comunque entrambi forti Entrambi solidi Secondo Il mio punto di vista Sì in Giozzo Mentre Andando a vedere L'8 Nelle ultime medizioni Io vedo che L'Alfa Romero Non ha sfruttato Tutte le occasioni Ma che sia Molto molto superiore Rispetto a Aston Rispetto a A Williams E a Ass Sicuramente Ass Sicuro Vabbè Quindi Secondo me Devono sfruttare Più le occasioni Perché Giovinazzi Per esempio Poteva fare Ottavo a Monaco E secondo me Giovinazzi Non può sbagliare La strategia Raikkonen Poteva ottenere Diversi punti in più E invece Non ha ottenuto Questi diversi punti in più Anzi Tutt'altro Quindi Insomma Secondo Il mio Punto di vista Può darsi Che L'Alfa Romeo Possa superare La Williams Anche perché Sono veramente Pochi i punti Che ha da recuperare Sono sette Secondo me Ce la può fare A meno che Russell Non compia un miracolo E faccia altri punti Poi non lo so Magari ora che si è sbloccato Non lo ferma più nessuno E quindi Questi sono i miei pronosti Ferrari terza Ne Allora Bottas terza Nel campionato piloti Verstappen che vince Il mondiale piloti Sempre se la fortuna Riesce a girare un po' Dalla sua parte Perché ha 50 punti Da chiedere Alla di abbendata Mondiale piloti Mondiale costruttori Secondo me Lo vince la Mercedes Perché Bottas Sarà molto d'aiuto In questo Rispetto a Perez Anche perché Bottas Al quinto anni Un top team Perez al primo Ferrari terza Nel campionato Costruttori Sesta e settima Nel mondiale piloti Sesta con Leclerc E settima con Sainz Terza nel campionato Costruttori E Aston Martin Secondo me L'Aston Martin Sarà Sesta nel campionato Costruttori Dietro Alla All'Alpine E davanti All'Alfa Tauri Con Gasly Vettel Che saranno I capitani Delle rispettive Squadre Detto questo ragazzi Il video termina qui Spero che il video Vi sia piaciuto Se ti è piaciuto Rimini dalleci Mi piace Se contare Non disi like Comenta Se siete d'accordo Se siete d'accordo Con me Se questa bella Chiacchianata C'è una Formula 1 Mi raccomando Un bel like Al video Commentala Commentami I tuoi pensieri In descrizione Il link Per sicuramente Su Instagram Da Moni Sporgerset E tutto E noi Ci vediamo In un prossimo video Bella ragazzi Ciao ve